Il persistente fenomeno dei furti a Sassano ha spinto l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Rubino ad organizzare un'assemblea pubblica che si terrà domani 12 luglio alle ore 18.30 presso il Cineteatro Totò. Sulla recrudescenza dei fenomeni criminosi ho già informato la prefettura di Salerno confrontandoci sulla vicenda, ha detto il sindaco Rubino. All'incontro ho invitato tra gli altri anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, tutti insieme, cittadini, amministrazione comunale e forze dell'ordine, cercheremo di individuare azioni da programmare finalizzate ad assicurare sicurezza e tranquillità alla nostra comunità sassanese. L'obiettivo primario di questa assemblea è coinvolgere attivamente la comunità locale nella ricerca di soluzioni efficaci per contrastare e prevenire i furti nelle abitazioni con la partecipazione diretta delle autorità competenti. Sulla vicenda si trova d'accordo anche il gruppo di minoranza. Invito pertanto, ha concluso Rubino, tutti i cittadini di Sassano a prendere parte a questo fondamentale incontro, affinché insieme si possano creare strategie concrete per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti i residenti del paese.